Save the Children, la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini, lancia l'allarme. Nel 2020 quasi 500 mila ragazze in più nel mondo potrebbero essere costrette al matrimonio forzato a causa della crisi economica da Covid. Sono anche questi gli effetti devastanti della pandemia sul futuro di milioni di ragazze e bambine in tutto il mondo. Nel 2020 quasi 500 mila ragazze in più nel mondo potrebbero essere costrette al matrimonio forzato a causa della crisi economica da Covid-19 e l'allarme lanciato da Save the Children, la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. Secondo uno studio diffuso dall'organizzazione internazionale, pare si stia verificando una inversione di tendenza negativa che arriva dopo 25 anni di progressi e che sta costringendo le adolescenti al matrimonio forzato soprattutto nell'Asia meridionale, 191 mila, ma anche nell'Africa centrale e occidentale, 90 mila, e nell'America Latina e Caraibi, 73 mila. A questo dato si aggiungerebbero un milione in più di gravidanze precoci, causa principale di morte per le ragazze tra i 15 e 19 anni, concentrate in gran parte in Africa, 282 mila, nell'area meridionale e orientale del continente, e 260 mila in quella centrale e occidentale, e nell'America Latina e Caraibi, 181 mila. Sono anche questi gli effetti devastanti della pandemia sul futuro di milioni di ragazze e bambine in tutto il mondo, tra matrimoni e gravidanze precoci, abbandono scolastico e violenze di genere. Ogni anno avvengono circa 12 milioni di matrimoni precoci, in un caso su 6 sotto i 15 anni, ma nel 2020, a causa del coronavirus, mezzo milione in più di adolescenti dovranno subire questa violenza di genere, ed è un dato sottostimato che siamo convinti sia solo la punta di un iceberg. Ha spiegato così Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia. Secondo quanto denunciato dalla direttrice generale, la pandemia sta peggiorando le diseguaglianze di genere e rischia di invertire i progressi fatti negli ultimi anni.